buona giornata amici da massimo foghetti oggi è martedì 12 aprile 2022 una bellissima alba questa mattina ha salutato il nuovo giorno i cieli sono sereni le vedremo poi nelle previsioni del tempo intanto vi do il benvenuto alla rassegna stampa di fano tv apriremo i giornali come sempre sul resto del carlino e sulle corriere adriatico sulle pagine locali vediamo il santo del giorno sfogliamo il calendario e troviamo san giuseppe moscati san giuseppe moscati fu un medico fu un grande medico si laureò a 22 anni con il massimo di voti insegnò nell'accademia partenopea di medicina e chirurgia emise le sue doti soprattutto al servizio dei poveri visitando i tuguri più miseri della città di napoli senza accettare nessun compenso fu un grande diagnostico nei tempi erano tra l'ottocento il novecento in cui i mezzi per le diagnosi erano veramente pochi visse una vita da povero accettando pochissimi compensi tra gli episodi della sua vita si ricordano in modo particolare l'assistenza data agli ammalati in ospedale durante una forte eruzione da parte del vulcano di napoli da parte del vesuvio e nel 1911 quando napoli fu colpita dal colera una epidemia ben più forte ben più grave dell'attuale anche se l'attuale ovviamente è molto grave ugualmente san giuseppe moscati e ricordatevi questo nome e veniamo ora alle previsioni del tempo dove vediamo che il tempo si mantiene stabile su tutta la regione ho parlato prima di sole ebbene i cieli sono sereni fino al pomeriggio poi saranno fuscati da velature in transito i valori massimi che raggiungeranno i 19 e 20 gradi per quanto riguarda la temperatura e il vento sulle coste espirerà da una direzione di est mentre una tensione debole caratterizzerà il vento nelle zone interne da una direzione est soprattutto quindi dall'oriente bene ciò detto vediamo subito i giornali per quanto riguarda la nostra rassegna stampa a partire dal resto del carlino si parla di marina dei cesari del porto turistico marina dei cesari purtroppo è una brutta notizia marina dei cesari destino segnato il fallimento è ormai una certezza c'è un buco da 18 milioni che è stato fatto con le banche le quali hanno dato a una società l'inconvenza del recupero del credito però non ci sono soldi in cassa e quindi il fallimento è ormai decretato l'avvocato della società dice è un provvedimento ingiusto faremo appello comunque il problema non sussiste per quanto riguarda i diportisti che hanno le loro barche all'ancora all'interno di marina dei cesari perché il contratto è stato fatto con un'altra società si tratta di una società che si chiama vediamo un attimo se riesco a trovarla vabbè in questo momento comunque un'altra società a cui è stata affidata la darsena ne parla proprio il presidente di marina dei cesari alberto cazziol che dice ricorreremo contro il fallimento perché lo riteniamo ingiusto la vita quotidiana del diporto potrà continuare perché la gestione dei rapporti con la clientela per tutta la durata della concessione è affidata ecco ad arsena dei cesari questo è il nome della società un'altra società priva di debiti bancari con la quale sono stipulati restano in vigore tutti i contratti però insomma il fatto che marina dei cesari questo nome che era entrato nel cervello insomma nella testa di tutti i fanesi ma anche di molti diportisti e beh questa società non ci sarà la località comunque rimane ed ora parliamo di una protesta parliamo di una protesta perché c'è una fanese una signora di 53 anni che ha avuto dei problemi fisici alla quale è stato proibito di entrare in piscina a pesaro la disavventura è capitata ad una 53enne fanese in un impianto di pesaro sono del tutto autonoma ha detto eppure non mi hanno ammesso disabile allora lei non può entrare in piscina le ha detto l'operatrice che era allo sportello mi aspetto delle scuse ma soprattutto che non accada a nessun altro di essere trattato così si chiama nicoletta questa signora aveva avuto dei trascorsi che le avevano un po' procurato dei problemi di carattere fisico però insomma aveva acquistato una sua autonomia però l'ingresso nella piscina non è stato ammesso ed ora vediamo anche che cosa dichiara Fabrizio Bittner che è presidente della federazione italiana Pentathlon e Moderno che gestisce la struttura mi riservo ha detto di verificare prima di dare spiegazioni e quindi vorrà parlare con le operatrici che hanno appunto usato questo comportamento e poi vediamo a fondo pagina un articolo che riguarda Fabio Manno dell'atelier del viaggiatore che torna alla carica i 1000 euro di contributi non arrivano sono i contributi dati alle aziende in difficoltà per quanto riguarda la pandemia però le tasse arrivano quindi non solo i disagi e i problemi causati dal virus che hanno ridotto drasticamente gli incassi agli operatori economici ma non arrivano i contributi eppure devono pagare le tasse per fortuna si sta ricominciando a lavorare ha dichiarato Fabio Manno dell'atelier del viaggiatore e pensate come i viaggi, le vacanze ancora languino si spera almeno che quelli che vengono nel nostro territorio siano gli italiani ed ora passiamo a Orciano a Orciano protestano i genitori di alcuni bambini che devono frequentare la scuola vediamo un attimo il titolo scuola a San Michele anziché a Orciano devono andare a San Michele al fiume pur abitando a brevissima distanza dalla scuola che è nel paese di Orciano le mamme di Mondavia sono in rivolta mancano i bambini per formare una prima nell'istituto del capoluogo così tre famiglie dovranno mandare i propri figli alla primaria che dista almeno 5 chilometri da casa eppure a terre roveresche la soluzione ci sarebbe insomma questo è un problema che nasce dalle decisioni di coloro che dispongono la formazione delle classi, l'assegnazione degli insegnanti e chi ci fa le spese sono i genitori, sono i bambini che devono farsi carico perché anche in questo caso non esiste il pulmino che porti i bambini a San Michele al fiume quindi i genitori stessi, le famiglie devono farsi carico del trasporto insomma c'è chi deve percorrere addirittura 12 chilometri tra andata e ritorno per portare il bambino a scuola e qui ci sono le proteste ad Urbino invece si tagliano gli alberi non è vero, non si tagliano gli alberi si tagliano alcuni alberi, quelli ammalati e per cercare veramente quelli che sono ammalati c'è stato un check up un check up molto molto oculato per quanto riguarda il riconoscimento di quelli ammalati check up agli alberi per evitare tragedie soprattutto perché poi se questi cascano possono provocare dei problemi infatti nel 2015 una 45enne restò addirittura uccisa da un tronco abbattuto dal vento in zona dei collegi universitari vengono fatti dunque controlli serrati sui fusti di grande taglia dentro e intorno al centro storico l'assessore Guidi c'è solo una pianta che dovremo abbattere è il risultato di questo controllo questa volta a essere ispezionati sono state le piante di Pian del Monte analizzate da una ditta di esperti che le studia con escalate addirittura in triclimping teste come prove di trazione e misurazioni e strumenti appositi per determinare se siano appunto ammalate o meno ed ora andiamo un'occhiata anche a quello che accade al Vinitaly di Verona dove non solo i vini vengono presentati i vini del nostro territorio ma anche i prodotti gastronomici e per quanto riguarda Urbino non può mancare la cacciotta la cacciotta di Urbino ebbene gli imprenditori, gli operatori sono rivolta contro l'etichetta a semafero si tratta del Nutriscore una serie di accertamenti che vengono evidenziati tramite dei colori come fosse appunto una segnalazione semaforica ebbene questo tipo di segnalazione rischia di procurare dei problemi ai prodotti gastronomici locali quelli di grande qualità che vengono molto apprezzati soprattutto nel quadro di una cucina mediterranea l'etichetta semaforica in approvazione da parte dell'Unione Europea ideata per indicare la qualità nutrizionale complessiva di un determinato alimento attribuisce un colore sfavorevole a prodotti come il formaggio e fornisce informazioni limitate e forvianti ai consumatori sì, il formaggio può provocare dei problemi a chi soffre di colesterolo o queste cose così ma la qualità, la leggerezza della casciotta di Urbino sono degli elementi che vengono apprezzati da tutti insomma un modo di rilevare la composizione degli alimenti che non quadra non quadra agli operatori di Urbino e poi parliamo anche delle processioni del venerdì santo Cagli e il venerdì santo la processione sarà in presenza e dobbiamo dire che nelle prossime fastività pasquali oggi siamo a martedì, venerdì è molto vicino finalmente torneranno tutte le funzioni del venerdì santo compresa la sentita processione del Cristo morto e come a Cantiano dove c'è la turba anche a Cagli c'è la processione del Cristo morto poi ci sono anche tutte le altre celebrazioni nelle località della Valle del Metauro e del Cesano e veniamo ora alla pagina di Pesaro dove c'è un caso che veramente desta molte molte perplessità questi giorni molti di noi si freggiano dei simboli dell'Ucraina per simboleggiare la nostra adesione alla sofferenza di quelle popolazioni c'è chi porta la bandiera c'è chi porta dei simboli che richiamino appunto quel paese ebbene una signora si tratta di Mariana Iolic che è il gestore gestore della cooperativa Fabi a Santa Maria delle Fabrecce aveva appeso fuori della cooperativa una bandiera della Ucraina vediamo qui appunto la foto di questa bandiera ebbene una persona l'ha tolta e si dice che sia il vicepresidente della cooperativa Marzio Mengucci che è un ex politico del Partito Democratico insomma un atto che non ha spiegazioni al momento solo che ha causato insomma un grande dolore a questa signora che aveva mostrato l'adesione appunto di quello che sta capitando nel suo paese boom di reati ieri c'è stata una conferenza da parte della Questura che ha fatto un sunto di tutti i problemi dell'ordino pubblico che si sono riscontrati nel nostro territorio è un consuntivo che si fa tutti gli anni si evidenzia quanti furti quanti rapine quanti atti illeciti sono stati compiuti appunto nel territorio e vediamo alcuni dati sono stati compiuti in totale nel 2021 anzi tra il primo aprile del 2021 e il 31 marzo del 2022 2412 delitti vediamo un attimo sono state denunciate 717 persone in stato di libertà e 114 tra fermi e arresti eseguiti i reati contro la persona passano da 84 casi a 106 sono i codici rossi mentre sono 14 le violenze sessuali una in meno rispetto all'anno precedente c'è anche un leggero aumento dei furti che da 805 passano a 833 soprattutto quelli con destrezza da 113 a 145 mentre calano quelli in abitazione da 175 a 155 le rapine balzano da 19 a 30 casi con un incremento di quelle in strada da 15 a 21 e non si ferma il trend in ascesa delle truppe informatiche insomma questo è un piccolo quadro di quello che accade nel nostro territorio e di quello che sono riusciti appunto a risolvere per quanto riguarda i casi in esame gli uomini della polizia della questura di Pesaro compresi insomma un po' tutto quello della provincia e poi si parla ancora dei green pass falsi oggi sui giornali parla il medico che è stato individuato denunciato eccetera e anche che gli portava i soldi sono rimasti invece in silenzio ieri davanti al jeep di Rimini da dove è nata l'inchiesta i sette sanitari della Romagna sospesi nel loro lavoro avevano finto di vaccinarsi pagando il dottor Bonato per continuare ad entrare nei luoghi di lavoro insomma non erano vaccinati non volevano vaccinarsi eppure derogavano per quanto riguarda la normativa irregolarità al 118 un dirigente dell'Azur è a processo nel mirino le condizioni del potes di Vallefoglia il caso è emerso durante la pandemia il PM ha chiesto la condanna e 3500 euro di ammenda non era segnalata questa è la irregolarità che è stata riscontrata non era segnalata la zona di pericolo davanti all'ingresso i locali non erano abbastanza caldi dai lavabi dei gabinetti usciva acqua fredda gli armadietti degli spogliatoi non avevano una chiusura e neppure la separazione per dividere i vestiti da lavoro di quelli privati potrebbe sembrare questa la fotografia di una palestra in degrado e invece si trattava della sede del potes di Vallefoglia e per questo insomma si è avviata un'inchiesta ancora sull'arresto del Carlino vediamo di un lutto il trattore si ribalta e uccide noto ex macellaio si tratta di Pierino Tonti di 70 anni è successo in un prato a Granarola stava effettuando stava tagliando l'erba nel suo giardino con un trattorino marca Grillo modello Klimber 10 il quale ha dapprima colpito un albero con la ruota destra poi si è ribaltato un trattorino che pesa tre quintali gli è caduto addosso e purtroppo l'uomo è deceduto comunque non si esclude nemmeno l'ipotesi del malore che può aver causato la tragedia per quanto riguarda questa disgrazia e veniamo ora al Corriere Adriatico vediamo la pagina di Fano dove si annuncia l'arrivo in Consiglio Comunale nella giornata di oggi della delibera della variante che individua la zona dove verrà realizzato il nuovo palazzetto dello sport arriva in Consiglio la variante per il nuovo palazzetto dello sport il sindaco Seri con questa scelta proiettiamo la città verso altre prospettive e opportunità è una delibera che è stata curata dall'assessore ad urbanistica Cristian Fanesi c'erano tre localizzazioni in ballo c'era appunto questa di Chiaruccia dove appunto verrà fatta la variante vediamo qui il rendering che appare in maniera molto schematica in questa fotografia ma c'era anche la localizzazione di Fantasy World a Torrette e poi quella di una zona vicino all'aeroporto dove si sta realizzando anche la nuova piscina ebbene è stata scartata subito quella di Fantasy World per quanto riguarda la viabilità insomma raggiungere la viabilità percorrendo la statale adrenatica sud particolarmente rischiosa tanto che in questi giorni l'amministrazione comunale ha deciso di inserirvi il multavelox per costringere appunto quelli che non sono abituati a rispettare le regole del codice della strada a sollevare il piede dall'acceleratore e quindi la situazione lì era un po' più precaria rimaneva la zona dell'aeroporto che aveva la piscina vicino e la zona di Chiaruccia che avrà poi anche si dice almeno il nuovo stadio accanto ebbene è stata privilegiata la zona di Chiaruccia poi è anche una zona il cui territorio la cui superficie di proprietà comunale quindi non ci saranno espropri ebbene su questa delibera probabilmente ci sarà un serrato confronto in consiglio comunale questa sera comunque è l'inizio per quanto riguarda un interburocratico che credo si prolungherà assai nei prossimi anni e chissà che non vedremo questo palazzo all'interno di questa tornata amministrativa punto interrogativo ed ora diamo l'addio l'abbiamo dato ieri a dire la verità l'addio a Roberto Cascioli c'era tantissima gente tantissima gente ieri al suo funerale che si è svolto nella chiesa di San Cristoforo a dare l'ultimo saluto a Roberto c'era una folla che per entità e spirito di partecipazione ha rappresentato la città intera è stato un commiato ve lo devo dire proprio personalmente con il cuore perché ero presente un commiato che ha toccato il cuore di ognuno tanto Roberto nel suo piccolo ha inciso profondamente nell'animo di tutta la comunità prima di tutto per la sua generosità poi per la sua innata capacità di esprimere e far sentire soprattutto la voce un po' di tutti la voce comune per quanto riguarda la soluzione di problemi che possono coinvolgere un po' tutti i cittadini ed era uno che insomma le cose le diceva aveva tanta ironia tanta immediatezza tanta spontaneità ebbene la sua scomparsa ha toccato il cuore di tutti al voto l'ottanta per cento dei dipendenti comunali e super consensi per Andrea Bernardi si sono svolte appunto le elezioni per quanto riguarda le rappresentanze sindacali all'interno dell'amministrazione comunale sono dodici gli eletti e la CGL ottiene sette delegati mentre due seggi vanno a CSA e Will uno alla CIS i dodici eletti nella rappresentanza sindacale sono quindi Andrea Bernardi Davide Panichi Elena Valentini Laura Zaffini Lucia Giunta Alessandra Olivi Tiziana Salvi per la CGL Loredana Paterniani e Casilde Menconi per il CSA Pierina Bellucci e Francesco Pedini per Will ed Elisa Farini per la CISL questo il risultato appunto delle elezioni in pianto Zengarini il comune bocciato affida rifacimento del fondo all'esterno ovvero ad un professionista esterno in ballo la redazione del progetto esecutivo ora nelle mani dell'architetto Viozzi per 23 mila euro insomma il professionista è di Porto Sant'Elpidio collabora da anni con il CONI regionale e uno degli esperti speriamo che questo dia un'accelerata alla soluzione dei problemi della Zengarini che potenzialmente è uno degli impianti più qualificati che esistano nella nostra regione purtroppo l'ammaloramento della pista e soprattutto quella enorme costruzione della tribuna che non ha avuto non ha raggiunto l'esito positivo del collaudo per problemi di costruzione sono problemi veramente da risolvere vediamo poi delle prese di posizione di fratelli d'Italia che oggi in Consiglio Comunale insisterà su tre nodi ovvero l'Adriactic Link sponsorizzando le richieste dei cittadini di Carrara poi per quanto riguarda l'aeroporto si dovrà conoscere la sorte della società Fano un Fortuna che lo gestisce e il recupero della Tari quell'azione condotta da Andreani Tributi per il recupero appunto delle somme evase a Fossombrone con l'Anello dei Capuccini un viaggio in luoghi inesplorati taglio del nastro per un nuovo cammino di 12 chilometri sulla dorsale del Monte Raggio lo hanno denominato questo nuovo percorso l'Anello dei Capuccini si tratta di un percorso immerso nella natura inaugurato dal gruppo di Fossombrone del CAI Montefeltro in collaborazione con i frati del convento che sorge appunto sul colle che domina la città di Fossombrone e vediamo anche la pagina di Senigallia dove si parla di accesso alle spiagge da me niente passaggio verso la riva cancelli in spiaggia negli stabilimenti e c'è chi mette appunto i cancelli per non fare transitare le persone durante la notte sono stati compiuti tantissimi atti di vandalismo nelle spiagge di Senigallia e quindi gli operatori vogliono preservare le loro strutture gli operatori si mobilitano contro i vandali slitta l'ordinanza del comune per regolare l'accesso il comune aveva decretato che era possibile soltanto entrare nelle spiagge per raggiungere la battigia ma non stazionarvi però insomma c'è stata la rivolta sulla pagina di Pesalo vediamo che il Corriere Adriatico si occupa si occupa appunto della relazione della relazione che ha svolto la Questura per quanto riguarda l'ordine pubblico qui i dati sono messi più in evidenza con una tabella e qui vediamo la fotografia del Questore Michele Todisco che ieri personalmente ha tracciato il bilancio di un anno di attività evidenziando come sempre più minori siano convolti in reati e questo è un dato veramente preoccupante quindi vengono tirati in causa anche le famiglie la scuola tutti gli educatori che possono così incidere nella educazione dei ragazzi nella formazione dei ragazzi perché evidenziando loro dei lavori dei lavori dei valori facendoli crescere appunto in un contesto etico dal punto di vista sociale e morale probabilmente l'unica soluzione del problema i ladri stanno rialzando la testa ma i furti in casa diminuiscono abbiamo visto appunto prima i dati su Vallugola il comune tira dritto giù le cabine per uffici e punti ristoro la variante a Pesaro passa in aula maggioranza è stata respinta la richiesta di rinvio l'assessore della Dora è il primo passo per arrivare al piano spiaggia e qui vediamo nella foto un bellissima immagine della baia di Vallugola all'interno del parco di San Bartolo un porticciuolo veramente delizioso quando il declivio comincia appunto ad addolcirsi verso le spiagge la cittadella dello sport strappa un sì alla unanimità il consiglio il consiglio comunale vota compatto sul centro di Villa Fastigi in project financing il nodo della sicurezza Pozzi sottopasso sopraelevata come collegamento e qui vediamo la foto dell'assessore Riccardo Pozzi e poi si parla di spiagge si parla di arredo in questi giorni in prossimità della Pasqua insomma ricomincia la stagione l'inverno sta allontanandosi la primavera in calza e quindi si riparano un po' i danni causati dalla cattiva stagione occorre il ripascimento delle spiagge occorre rimediare alla erosione insomma ci sono ancora problemi e quindi servono molti molti soldi in vista della Pasqua Marche Multiservizi avvierà in anticipo il servizio di raccolta dei rifiuti sulle spiagge si intascava i soldi dei clienti è stato condannato un rappresentante una pena di due anni e due mesi per appropriazione in debita aggravata è accaduto a Pesaro davanti al tribunale il suo lavoro era quello del rappresentante ma riscuoteva i soldi dei contratti di vendita insomma li intascava lui ed è l'ultima notizia a questo punto non mi rimane che chiudere i giornali darvi un appuntamento a domani alle ore 7 per una nuova rassegna stampa e per le notizie del giorno alle ore 20.30 c'è Occhio alla Notizia su Fano TV e questo è tutto a risentirci e questo è un'ottima notizia